E i appassionati tifosi della Lazio, preparatevi per una notizia bollente direttamente dai corridoi del mercato dei trasferimenti. Anche se il campionato è ancora in corso, i rumor di movimento sono già in pieno fermento nei corridoi del club. Secondo le informazioni che ci sono pervenute, la Lazio, attraverso il lavoro instancabile di Fabiani, sta già cercando rinforzi per rafforzare il centrocampo. E il prescelto è il giovane talento Dele Bashiru, nato nel 2001 e attualmente in forza alla Tespor. Dele Bashiru si è distinto in Turchia, dove ha accumulato numeri impressionanti, 6 gol e 5 assist in 31 partite questa stagione. Immaginate solo cosa potrebbe portare questo campione al nostro centrocampo. Con la sua abilità e la sua visione di gioco, sarebbe sicuramente un'aggiunta preziosa alla rosa della Lazio. Ora la domanda che tutti si pongono, Dele Bashiru indosserà davvero la maglia bianco celeste nella prossima stagione? Rimanete sintonizzati, tifosi! Questa è solo una delle tante novità che devono ancora arrivare. E non dimenticate di lasciare un commento su cosa ne pensate di questo possibile acquisto. Creiamo poi l'atmosfera di attesa e tifo!